Musica Eccoci qua, siamo a San Diego, è il giorno zero, il Comic Con inizia ufficialmente domani ma stasera c'è la preview night all'interno del convention center verranno mostrati gli episodi pilota di alcuni serial tv nuovi molto attesi come Supergirl, Blindspot, Lucifer e altri ancora è anche il giorno in cui si va a ritirare l'ambitissima borsa ufficiale della manifestazione e ovviamente il proprio badge, il proprio pass domani comincerà tutto quanto, in particolare cominceranno gli attesissimi panel nella All H del convention center quelli che fanno affollare file di anche 12-13 mila persone, considerate che la All H ne contiene 4 mila quindi qui è possibile fare file di 10 ore e restare fuori comunque intanto abbiamo la possibilità, l'unico giorno in cui è possibile vedere i cosplay non ancora vestiti e immaginarseli come saranno nei prossimi giorni, come sarà l'invasione nei prossimi giorni e soprattutto è il giorno in cui vediamo la città vestirsi di cultura popolare perché non solo l'Eleton Bayfront che vedete con un enorme cartellone di The Strain, il serial pensato a Guillermo del Toro è stato adobato così ma quasi tutti i grattacieli e anche lo stadio della città si sono cammuffati per questa grande manifestazione che cambia completamente San Diego per alcuni giorni noi vi racconteremo tutto quanto nei prossimi giorni a partire dai panel naturalmente di Star Wars Batman contro Superman, i Fantastici 4, Eightful Eight ma anche The Walking Dead, Game of Thrones e le principali serie televisive restate con noi